A questo punto, oh Mark, 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 questa è una bellissima domanda Mark ha scritto in chat, nella chat dei commenti di Telegram poco fa, l'ho visto e ho detto vieni subito, cioè vieni subito, sia tu che il tuo commento portiamolo subito in chat, in live qualcuno può spiegarmi com'è possibile che FTX token sia ancora 1,28? Allora, questa è una domanda molto interessante veramente molto interessante e che forse richiede di staccarsi un attimo dal sentimento di odio profondo nei confronti di FTX perché? Perché col sentimento di odio profondo non si ragiona cioè non si riesce a ragionare il mercato, diciamo che da questo punto di vista è molto asettico è molto privo di sentimento il mercato va a misurare la possibilità che quell'oggetto, quell'asset effettivamente cioè va a misurare la possibilità che quell'asset sia perdonatemi va a misurare la possibilità che che l'azienda sia specchiata nell'asset ok? Allora, partiamo riprendo il discorso perché è molto interessante e anche abbastanza articolato dunque FTX e FTT sono la stessa cosa? No sono due cose differenti cioè se io vado a scrivere FTT CoinGecko, per esempio vado qua CoinGecko.com FTX FTT ok, vedete che ancora c'è il simbolino 1,28$ FTT è un token che esiste sulla blockchain di Ethereum in primis se non sbaglio sì, sulla blockchain di Ethereum in primis ok, è stato rilasciato lì è un token come una vagonata di altri token ne esistono tantissimi di token che non hanno progetti non hanno niente solamente perché esistono solamente perché sono stati rilasciati sulla blockchain sono tradati possono andare in alto in base sono molto volatili ma di fatto esistono e quindi possono essere tradati a mercato ok? FTT partiamo dal presupposto che sia questo oggetto dopodiché FTT era strettamente legato a FTX perché sostanzialmente chi aveva emesso questo token era FTX era l'azienda quindi in un qualche modo possiamo dire che effettivamente FTT era un po' il token security di FTX ok? cioè effettivamente rappresentava un po' l'andamento di FTX detto questo poi appunto ci sono i trend fortemente rialzisti fortemente ribassisti di mercato che chiaramente diciamo cambiano un po' tutto quando è che FTT è caduto in bassissimo? lo vediamo lo sappiamo benissimo mettiamo un grafico a 180 quando il 6 novembre 7 novembre 8 novembre FTX è sostanzialmente fallita ha fatto la bull run la la bull run si e si la bull run ragazzi sono un po' fuso o no? ditemelo ha fatto la banca rotta ok? e quindi e quindi sostanzialmente FTT che per molti era la security la la stocks no? di FTX FTX chiaramente non vale più nulla perché io quel token lo tenevo perché speravo che nel lungo termine FTX valeva sempre di più no non io personalmente in generale chi lo deteneva ok? detto questo perché ha ancora un valore? ha ancora un valore per i due motivi che abbiamo appena detto ossia il primo è che è un token tradabile da tutte le parti ossia io posso andare tranquillamente qui su Coinjack posso andare a vedere dove posso tradare questo token su Binance su Bitget in DeFi da un sacco di parti posso ancora tradare questo token ok? a prescindere dalla sua vicinanza con FTX ok? a prescindere da questo chiunque lo può tradare come è sempre stato prima di FTX dopodiché FTX non è un'azienda morta cioè FTX è in liquidazione non è nemmeno liquidazione è in uno stato di fallimento ok? ma chi ve lo dice che domani non arriva qualcuno che vuole comprare che ne so arriva il Binance di turno il qualcuno di turno il Justin Sun di turno che dice ragazzi siamo in Burran magari nella prossima Burran e questa è una cosa che ricordatevela perché io un po' me l'aspetto attualmente siamo in un bear market ok? in un bear market nessuno ha i soldi i soldi non ci sono in circolazione sono pochi i volumi sono dieci volte minori cinque dieci volte minori rispetto agli all time high rispetto ai momenti di massima ma nel momento in cui dovesse ritornare tanti soldi io vi ricordo che i grandi exchange fanno delle barilate delle barilate di soldi ogni giorno ok? fanno milioni milioni e milioni di revenue ogni giorno di utile ogni giorno ok? a quel punto dire ok guardate quanto ha FTX di debito 10 miliardi un po' tanto magari io ne ripiano 5 ok? magari ne ripiano 4 ok? e quei 4 quei 5 vanno distribuiti e me lo compro FTX dal punto di vista del nome è chiaramente problematico ok? credo che in pochi riaffiderebbero i propri risparmi a FTX per quanto poi lo sapete nella finanza riprendendo il concetto di prima la memoria è molto corta la memoria è corta e anche i sentimenti si appianano nel corso del tempo soprattutto se FTX a un certo punto magari ti restituisce la metà dei soldi che avevi dentro e quindi tu dici vabbè ok ne ho persi metà magari erano anche tanti detto questo ve li hanno restituiti quindi nel corso del tempo noi umani siamo molto abili poi a scordare soprattutto se ci sono delle operazioni di marketing fatte bene dietro bene fatte bene dietro e quindi potrebbe anche essere che il token di FTX alcuni lo stanno accumulando perché magari pensano che in una prossima burrani che sia fra un anno che sia fra tre mesi fra un anno fra due anni fra cinque anni questo token con tutto l'ecosistema possano risalire come un treno possono risalire tutto di un botto e sapete anche quanto funzionano le volatilità in questo mercato visto che è un volatile che va su e giù continuamente siamo a 1,28 ma se noi guardiamo gli ultimi 14 giorni ora siamo a 1,28 due settimane fa era 1,71 e poi passavamo da un dollar circa un mese fa nemmeno 10 marzo due settimane fa ecco due settimane fa passavamo per un dollaro oggi siamo a 1,28 è chiaro che in questo caso segue il trend di mercato cioè pari pari il trend di mercato di bitcoin quindi è chiaro lì ma capite bene che sono volatilità comunque enormi e che e che qualcuno potrebbe dire sai che c'è io ho un dollaro me ne compro una vagonata perché non lo voglio rivendere qua un dollaro e quattro un dollaro e tre ma lo voglio rivendere quando mi aspetto è una scommessa di mercato questa ftx sarà riacquistato da qualcuno con tutta la tecnologia che hanno sviluppato che comunque lo ripeto era una figata cioè dal punto di vista del trading probabilmente era uno dei migliori che esisteva se non il migliore che esisteva a livello proprio di tecnologia stretta e e diciamo cavalco l'onda quando ci sarà uno la bull run due qualcuno lo ricomprerà come diciamo pacchetto quindi questa è la motivazione per cui a mio parere ancora ftx esiste ancora si trada ancora qualcuno è interessato a detenerlo e niente a pensare che potenzialmente in futuro possa valere di più perché poi alla fine un asset lo tieni lo tieni per quello perché ci scommetti sopra cioè scommetti non nel senso della scommessa chi vincerà questa partita nel senso dell'investimento ok però parlo di scommessa perché in questo caso diciamo è un investimento abbastanza ardito se non altro